Io sono qui, canta insieme a me Aspetteremo che domani arriverà, il sole che ci riscalderà Portando via quest'aria che non va La mia città, che silenzio c'è, che bersano ma che differenza fa Frediamo un po' la serenità, che la frenetica ci porta via Ma dimmi, cosa non ti torna, cosa non ti torna Resta dentro casa, aiutiamoci a vicenda Fai la differenza, fai la differenza Vivi ogni giorno con l'amore per il mondo Cosa non ti torna, cosa non ti torna Resta dentro casa, aiutiamoci a vicenda Fai la differenza, fai la differenza Vivi ogni giorno con l'amore per il mondo Domani arriverà Ciao a tutti, sono Vicky Annacone, cantautrice di Origini Molisane E con questo videomessaggio vi spiego in breve come nasce Cosa non ti torna il mio brano Questo brano è nato in giorni di quarantena Dove ovviamente siamo chiusi in casa in un momento molto particolare Però da cantautrice il mio mezzo comunicativo è quello di scrivere delle cose E cercare di metterle su musica Il messaggio che vuole dare Cosa non ti torna È quello di essere molto positivi Perché c'è la speranza che domani torneremo a una vita normale Se non anche migliore di quella che abbiamo lasciato Perché sicuramente oggi apprezzeremo il valore di tante cose Che prima per noi sembravano scontate, banali Il semplice caffè, la pizza con gli amici Sembrava una cosa che è normale Oggi la guarderemo sicuramente con occhi diversi La musica ci riunirà Alle diciotto dai balconi liberi Il bello è viverci così Perché uguali siamo tutti fragili Momenti che segneranno noi Con un bagaglio che ci porteremo poi La vita dà e toglie quando può Ma forse fa riflettere anche un po' Quindi questo brano nasce con l'idea di voler essere anche un inno Cantato dal popolo Che domani arriverà, il sole splenderà E dobbiamo essere uniti Fare la differenza però Stando a casa e rispettando le regole Che ci sono state richieste dal governo Dopodiché la collaborazione con diversi artisti Ho deciso di mettere insieme questa cosa Appunto proprio per mettere insieme diverse voci Far cantare diverse voci E comunicare Perché deve essere un po' una forza Tutti insieme ce la faremo Quindi l'idea è questa Cantata con diverse voci Come se fosse il popolo Che insieme fa questa unione Per tornare alla normalità La musica ci riunirà Alle diciotto dai balconi liberi Il bello è Viversi così Perché uguali siamo tutti fragili Documenti che Segnieranno noi Con un bagaglio che ci porteremo poi La vita dà e toglie quando può Ma forse fa riflettere anche un po' Ma dimmi Cosa non ti torna? Cosa non ti torna? Resta dentro casa Aiutiamoci a vicenda Fai la differenza Fai la differenza Vivi ogni giorno con l'amore per il mondo Voglio ringraziare tutti i cantanti Che hanno partecipato a questo bellissimo progetto Abbiamo così deciso di fare questa collaborazione Per fare una donazione Raccolta fondi Per i medici in prima linea Della regione Molise Questa raccolta fondi È possibile farla attraverso l'Iban Che vedete in questi giorni Passare insomma su tutte le pagine social E anche attraverso messaggi Che si stanno scambiando tramite il Whatsapp E qui sotto c'è il codice IBAN Dove voi potete fare una donazione La donazione è libera Anche 5 euro fanno la differenza Quindi cerchiamo di aiutare la nostra regione Che è piccola A volte anche dimenticata forse Dalle altre regioni Ma siccome noi ci siamo Io dico sempre e mi batto su questa cosa Il Molise esiste ed è anche molto molto bello È piccolo e siamo un popolo meraviglioso Quindi credo che dobbiamo sostenerci ed andare avanti Quindi anche poco ma sicuramente fa la differenza Io vi mando un bacione grande grande e mi raccomando fate la differenza Donate Domani arriverà Domani arriverà Il sole tornerà Il sole tornerà Il sole tornerà Domani arriverà Il sole splenderà Cosa non ti tornerà Cosa non ti torna Cosa non ti torna Cosa non ti torna Domani arriverà Domani arriverà Il sole splenderà Domani arriverà